Peppe Perrella, questione Porto, sembrerebbe almeno per quest'estate risolta in via definitiva. Parto dalla scorsa settimana, un tentativo di sgombero al quale tu ti sei opposto. Spieghiamo quello che è successo. Niente, è successa una cosa vergognosa. Loro con un provvedimento del 27 luglio alle ore 10.10 mi hanno comunicato che alle ore 12 in effetti venivano a sgombrare e di mettere in possesso alla ditta affidataria dei servizi la nuova ditta. Niente, praticamente è successo che si è verificata una vera e propria esecuzione di questi signori nei confronti sia mia che dei dipendenti perché volevano a tutti i costi sgomberare, cacciarci via però le norme, come al solito, dicono il contrario. Ecco, alla fine tu ti sei opposto al provvedimento, c'è stato il ricorso al TAR, il TAR ha rinviato tutto a settembre e così di fatto viene chiuso un capitolo, cioè per il restante mese di agosto gestirete il porto in attesa di quello che sarà poi il giudizio del TAR. Esattamente, proprio così il TAR già lo aveva fatto precedentemente, quindi non c'era bisogno di fare nessuna azione di forza, quindi però il sindaco che sa di mandare dei dilettanti allo sbaraglio ha ritenuto opportuno mandare tutta l'amministrazione, compresa la giunta, consiglieri comunali, c'erano tre macchine della polizia, c'era la guardia costiera, tutto il comando vigili urbani di L'Acquameno e niente, se ne sono andati poi pian pianino uno alla volta perché insomma le norme dicono tutt'altro. La soddisfazione c'è ed è tantissima perché io ho salvato 20 ragazzi, 20 famiglie di L'Acquameno e immaginare il solo fatto che loro potessero perdere il lavoro in questo momento storico per me la notte non mi faceva dormire. In cambio di cose, in cambio di una società inesistente, affidataria dei servizi, la Marine Sub di Bagoli con un altro di Castellammare, insomma esiste solo sulla carta questa società, forse nemmeno su quella e niente, il sindaco dovrebbe vergognarsi per quello che ha fatto, quindi lui dovrebbe andare a chiedere scusa innanzitutto ai tanti turisti che frequentano l'isola pubblicamente, dopodiché dovrebbe chiedere scusa ai dipendenti che sono figli di L'Acquameno e sono famiglie di L'Acquameno e poi dovrebbe chiedere scusa al sottoscritto per le tante angherie che gratuitamente sto subendo da un bel po' un bel po' di tempo. Come andrà a finire secondo te tra un mese? Non lo so, io mi attengo a quello che sono le norme nazionali, le norme regionali, comunali, se ci sono delle norme che io ritengo, come ho sempre detto, valgano per me, io mi atterrò a quello che dice la giustizia. Probabilmente lui, diciamo, il giudice a Berlina non l'ha trovato ancora, dovrà andare forse a Hong Kong, a Kuala Lumpur, a Singapore, non lo so dove deve andare, perché ogni volta fa queste sciocchezze, mente ancora e guarda, non so cosa dirti, non so cosa ha in testa questo signore.